il professor Cicuto che è davvero il nostro secondo ospite d'onore ci dirà qualcosa in piena libertà su la dantesca l'anno ventuno e in particolare ciò che la dantesca pensa di fare per non soltanto il rapporto generale fra Dante e la figurabilità ma quello specifico fra Dante Botticelli e altro ancora prego grazie grazie caro Filippo nonché professor Grazzini per questa solo per questa generosissima anche troppo generosa presentazione ma soprattutto per per l'occasione che ha che mi hai offerto di di confronto e di dialogo su argomenti certo per me come presidente della dantesca all'ordine del giorno certo quotidiani ma che prendono come dire un uno smalto speciale proprio in occasione dell'anno dantesco duemilaventuno settimo centenario della morte di Dante e contraddico subito il presentatore perché effettivamente parlare della dantesca significherebbe occupare tutto il tempo a mia disposizione preferisco allora agganciarmi a questa offerta di libertà nel parlare per centrare la mia attenzione il mio breve discorso su quelle iniziative che possono dare l'idea di un certo tipo di lavoro anche nuovo rispetto a la tradizione della nostra società che naturalmente come molti di voi sanno cura l'edizione nazionale l'unica edizione nazionale delle opere di Dante Alighieri che nel corso di quasi due secoli è stata fondata nel 1888 ha promosso e sostenuto nel mondo la cultura dantesca in tutte le forme e in tutte le forme. Questa in particolare è un'attenzione speciale è stata rivolta ad alcune iniziative per alcune è stata sviluppata all'interno di alcune iniziative che riguardano quello che mi piace chiamare il Dante visualizzato cioè che cosa è stato Dante per una per la tradizione antica e anche per la e che cos'è per la contemporaneità come hanno raffigurato gli uomini attraverso questi sette secoli e gli artisti in modo particolare l'opera di Dante e la commedia nello specifico. Ora una delle iniziative di punta è quella da cui mi piace partire è una grandiosa lasciatemelo dire mostra di codici di manoscritti e di stampati. Si intitola Nel tempo di Dante mostra di codici e edizioni di opere dantesche nelle biblioteche fiorentine. È in corso di allestimento questa mostra che aprirà il giorno 23 settembre 2021 e si estenderà fino al gennaio del 2022 ed è allestita, viene allestita già in questo momento nelle tre principali biblioteche di Firenze, la Mediceo Laurenziana, la Riccardiana e la Nazionale Centrale. Saranno esposti niente meno che 190 codici, manoscritti e stampe, dai più antichi a tutto il Cinquecento, a tutta la produzione anche a stampa del Cinquecento. Un lavoro enorme che confluirà poi in un catalogo di novecento pagine che mi auguro possa essere un punto di riferimento e di svolta anche per gli studi su Dante. Perché parlo in particolare di questa mostra? Perché anche uno dei miei compiti più precisi è stato quello di immaginare un percorso attraverso l'illustrazione degli antichi manoscritti danteschi, delle opere dantesche. Si è trattato di documentare il grande lavoro che comportò da subito tradurre in immagini per il pubblico la storia, i personaggi, gli ambienti di quel libro così singolare, la commedia, che, questo va detto a chiare lettere, impressionò i contemporanei, i lettori a ogni livello, di ogni estrazione, ma anche li disorientò, li spiazzò, spiazzò le loro aspettative. Mi riferisco all'audacia speculativa della commedia, del poema, che in scena una cosa inaudita, la grazia ricevuta da un laico, per di più in condizione di peccato e di colpa, grazia di poter rappresentare l'oltremondo, attraverso l'esperienza di questo mondo, e di rappresentarlo potremmo dirlo con gli occhi di Dio e per conto di Dio, arrivando a usare niente meno che una scrittura da evangelista. non solo, i contemporanei dovettero fronteggiare un'altra cosa sorprendente, l'essersi fatto Dante nuovo profeta sul modello di Isaia, l'essersi fatto Dante poeta teologus per enunciare una verità e niente meno mettendosi a confronto, a discutere con santi e beati del paradiso. Discussione che avviene in modo, con le parole del poema, attraverso le favole, attraverso il ver che ha faccia di menzogna, attraverso le finzioni del letterario e della poesia. Insomma, un insieme di cose che non stavano insieme prima e che adesso compongono un messaggio difficilissimo da assimilare all'istante. Ecco quindi la commedia, considerata anche un testo in odore di eresia o perlomeno legato a posizioni che in fatto di fede non nascondevano ascolti del razionalismo averroistico, eh, su, su, fino agli estremi canti del paradiso dove la materia si complica ancora. Insomma, si fa strada la necessità di mettere in opera, di attivare un'illustrazione inedita, impensata, adeguata a questa scottante e articolatissima materia. Mettere in scena anche l'intero libro dell'universo, che è cosa che si poteva fare, però in realtà un grande modesto, cioè attivando forme di appropriazione, di familiarizzazione, portare il pubblico piano piano a capire il contenuto della commedia. Magari creando paralleli con cicli illustrativi già noti, già diffusi, come quelli per la Bibbia, per i testi, per le sacre scritture, o appunto per l'Eneide o altri testi classici. D'altronde si trattava anche, come dire, di reagire, si trattò di, di, della presenza di certi ambienti che reagirono a questo messaggio innovativo e per più aspetti rivoluzionari di Dante. Eh, la grande tradizione dell'antidantismo, già trecentesco, faccio i nomi di Guido Vernani, di Cecco d'Ascoli, naturalmente, fino alla condanna per eresia del De Monarchia, eh, decretata dal cardinale Bertrando del Poggetto, o anche la proibizione fatta ai predicatori, ai domenicani, di leggere la commedia, non più tardi del 1335, nel capitolo dell'ordine domenicano del 1335, a dieci anni circa dalla morte di Dante. Insomma, diversi fattori andavano messi in gioco per poter arrivare a far capire il contenuto in un certo modo, ma anche a orientare in un certo modo il testo dantesco, il messaggio del testo dantesco. Eh, per questo anche furono approntati molti commenti, come ben sapete, una grande tradizione di commenti, come quello precocissimo di Guido da Pisa, o anche del figlio di Dante, di Pietro Aglieri, eh, che corrono, personale, questi commenti che corrono un po' ai ripari, mettono degli steccati, mettono dei paletti per poter far capire bene in un certo, in una certa direzione. E insieme ai primi illustratori, assieme ai primi illustratori, anche i commentatori cercano di avvicinare la commedia a testi già conosciuti, come appunto, vi ho detto, le neide o le scritture. Su questa strada emerge subito una corrente, questo è stato anche uno dei fili che hanno permesso di creare un disegno unitario all'interno della mostra. È emersa una corrente di scambi culturali e figurativi, chiamiamoli così, molto forti, tra Pisa e Firenze, con sullo sfondo la reazione degli ordini ecclesiastici, che prende forma nella grande pittura monumentale. Parlo di Buffalmacco al Camposanto Pisano, parlo di Nardo Dicione per il Paradiso in Santa Maria Novella, ma anche dell'Orcagna e del suo giudizio in Santa Croce. Tutte posizioni ben determinate nei confronti di Dante e della sua materia. Ecco, quindi, in anni vicinissimi alla morte di Dante, il cosiddetto codice antichissimo, Ashburnabiano 828, che sarà in mostra, è degli anni venti del Trecento. È degli anni venti del Trecento. Ecco una quantità enorme di botteghe, di atelier, di artisti, in fervore, quasi in frenesia di lavori, per soddisfare le richieste di questo testo, di un testo illustrato, con una illustrazione che serve come chiave interpretativa, che può servire come chiave interpretativa. E ecco i nomi di artisti come Pacino di Buonaguida o come il maestro delle effigi domenicane, celeberrimi, abbastanza celebri, in pieno Trecento, oggi ovviamente noti solo a pochi conoscitori, che definiscono un canone illustrativo per la commedia. Si crea addirittura un insieme di codici, vengono chiamati i Danti del Cento, perché sarebbero stati un centinaio le copie della commedia eseguite, realizzate dalla stessa mano, illustrate però da artisti diversi. Cioè a Firenze è una produzione seriale, standard, ma anche manoscritti molto diversi l'uno dall'altro, per quanto riguarda l'illustrazione, perché da un lato magari si punta a descrivere, a rispettare la lettera del testo, a descrivere il viaggio di Dante, come esperienza individuale e reale, d'altro canto invece si punta a sottolineare di più il senso morale del racconto, trasformandolo, come è giusto che sia, perché è una, diciamo, delle possibilità interpretative, in una visione, in un sogno sul tema universalmente valido della salvezza delle anime, dell'intervento divino nel mondo e via dicendo. Sono in mostra capolavori assoluti, che ci permettono anche di leggere questa, l'intera vicenda dell'illustrazione trecentesca e quattrocentesca di Dante, come la volle leggere Giovanni Boccaccio, editore lui stesso di Dante, poco dopo la metà del Trecento. l'esigenza di creare un classico per i moderni, ma anche un manuale di insegnamento morale, un'enciclopedia dottrinale e insieme un nuovo libro sacro, per di più scritto in volgare. Insomma, tutto questo poi variabile a seconda dei commettenti del pubblico destinatario e via dicendo. Insomma, attraverso le varie tipologie illustrative che sono presenti in mostra cercheremo di far vedere come fu recepita l'opera dantesca, non solo la commedia naturalmente. Assieme anche a una sezione, assieme anche a una proposta interpretativa, anche questa estremamente nuova e molto complessa, ospitata dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che riguarda la cosiddetta Biblioteca di Santa Croce, del convento francescano di Santa Croce in Firenze. Cioè l'esposizione di quei libri, di quei codici che circolavano a Firenze in età dantesca, alla portata anche di Dante, di quel Dante che frequentava le scuole degli filosofanti. Una di queste scuole, proprio quella del convento di Santa Croce in Firenze, e dunque codici delle opere della classicità latina, Cicerone, Orazio, fino a Boezio, e poi Aristotele e i suoi commentatori, Agostino, gli storici di Atini, gli autori della scolastica, fino a tutto Virgilio e via dicendo. Ecco, questo, diciamo così, è questa nostra iniziativa di punta che apre un pochettino il panorama, l'orizzonte della visualizzazione di Dante. Ma non c'è soltanto, come ovvio, una parte antica, non c'è solo una parte antica, c'è anche una parte moderna che ci ha riguardato, che ci ha interessato molto. È aperta già, e resterà aperta fino al 31 luglio di quest'anno, al Palazzo Blu di Pisa, la mostra di un illustratore contemporaneo dell'inferno dantesco, del solo inferno dantesco, che è un grande artista britannico, Tom Phillips, anno 1937, artista poliedrico, molto versatile, oltre che di fama internazionale. Sue opere sono esposte al Virginia and Albert Museum, alla Tate Gallery, al Metropolitan Museum, alla Kunstall di Basilea, e via dicendo, alla Royal Academy, eccetera. Phillips è molto noto a livello internazionale, è conosciuto per la sua capacità di trasformare le opere che affronta, compresa la commedia, compresa la prima cantica della commedia. Notissimo è un suo lavoro, durato circa 30 anni e non ancora concluso, di riscrittura di un romanzo vittoriano, di tale, da noi sconosciutissimo, William Malloch, A Human Document. Phillips si è avvicinato a questo romanzo, trasformandolo, modificandolo, inserendo illustrazioni, riscrivendolo completamente, proiettando all'infinito tutti i sensi possibili che si possono ricavare da un libro fatto da mille altri libri, straordinariamente. Continue riscritture, cambi di prospettiva nella lettura che lui ha. Dunque, poi è venuto anche il successo, questo sì, davvero planetario, di Phillips per la realizzazione, per la BBC nel 1988, di TV Dante, cioè un Dante per la TV, in collaborazione con il grande regista Peter Greenaway, un film vero e proprio sui primi canti dell'inferno, di straordinario impatto visivo, un modello di cultura pop, potremmo dire. E dunque Phillips si è dedicato, ha realizzato nel 1983, ha pubblicato nel 1983, una serie di tavole, 139 per la circostanza, qui raccolte in un volume, edito appunto fra l'83 e l'85, dedicate all'inferno e che ora sono esposte appunto al Palazzo Blu di Pisa. È una lettura nuova, molto nuova, rivoluzionaria dell'inferno, nella forma di un dialogo con tutte le arti, un dialogo postmoderno, perché rielabora tutte le possibili fonti, le esperienze personali, le sue occasioni di lettura, realizzando un commento per figure e per parole, che moltiplica i significati del testo. In un gioco continuo di analogie, di accostamenti, di ricordi, è stato definito un esperimento di writing through, di scrittura attraverso, di attraversamento con la scrittura del testo di Dante, che diventa, come dire, una riflessione, come la definisce lo stesso Phillips, una riflessione tra vita reale, vita immaginata, vita scritta e vita dipinta. Un palinsesto, una memoria del mondo. I rapporti con la pop art britannica sono tantissimi, sono indiscutibili. Fa una sorta di contrapunto continuo fra immagini e parole, allontanandosi dalla tradizione illustrativa di Gustave Doré, naturalmente, ma anche dalla tradizione britannica di Fluxman o di William Blake, per puntare più su un gioco pop, un gioco pop sulle immagini. Vi faccio soltanto vedere un esempio di una tavola, per farvi capire alcune caratteristiche del suo modo di leggere e di procedere. Questa è la tavola che riguarda il canto trentunesimo dell'inferno, la storia del pozzo dei giganti. Qui il gioco con gli stereotipi della cultura visiva è molto forte, è molto evidente, perché compare un King Kong pronto a distruggere sia una New York attuale con i suoi grattacieli, sia le torri di una città antica che è San Gimignano. Perché dietro sta l'interrogativo di Phillips, cioè chi sono oggi i giganti per noi? I mostruosi esseri della mitologia antica oppure sono i terrori contemporanei, quelli che possono distruggere la nostra civiltà? Quindi altre volte la rivisitazione riguarda anche opere di opere di larga fama, che però vengono messe in contesti spiazzanti e imprevisti. Per il canto ventitreesimo, là dove c'è la similitudine di Virgilio, con la madre che salva il proprio figlio dalle fiamme, fugge, si è pure svestita, eccetera, qui nella tavola viene incrociata con la rappresentazione di una donna con un bambino morto in braccio che si trova nella parte sinistra della Guernica di Picasso, che viene riattualizzata. C'è poi una lunga, una grande riflessione sul tempo che passa e qui Phillips mette in opera molte delle sue, del suo ragionare sul quotidiano. Utilizza per alcuni collage anche una sua opera celeberrima, Benches, oggi alla Tate Gallery, cioè panchine. È un'opera che è fatta attraverso pittura e fotografia di alcune panchine in un parco londinese dove le persone passano, si siedono, conversano e poi scompaiono. Questo fatto nel nel giro degli anni, in modo che le vite di tutti poi collaborino a creare una storia e questo viene utilizzato proprio ampiamente per creare, ma diciamolo proprio riassumendo e poi passo ad altro, creando un Atlante del ventunesimo secolo, una memosine, chiamiamola così, contemporanea, in cui poi confluiscono tutte le esperienze anche personali vastissime di Phillips. È un'opera davvero ipermoderna, è un ipertesto che potete anche vedere da subito perché esiste anche la possibilità di un tour virtuale della mostra collegandosi proprio con il sito, con il sito del del Palazzo Blu, del Palazzo Blu di Pisa. E dunque, visto che era uno degli argomenti previsti all'ordine del giorno, veniamo anche a Botticelli, per il quale la dantesca sta organizzando un evento molto importante, poi in parte lo ha già organizzato perché è appena uscito per l'editore Cesati di Firenze questo volume che si intitola proprio Dante e Botticelli, un volume che è il quinto di una serie promossa dalla società dantesca, una serie che si intitola Le carte ridenti, il Dante visualizzato, che analizza attraverso saggi specifici, decine e decine di saggi, appunto raccolti in cinque volumi, in cinque volumi, tutti gli episodi di illustrazione della commedia dalle origini, dal momento, diciamo così, della morte di Dante fino a tutto il Cinquecento. Questo volume raccoglie gli atti di un convegno che si è svolto a Potsdam due anni fa e ha il pregio anche di raccogliere l'illustrazione, tutte le illustrazioni di Botticelli alla commedia. Preparate la Botticelli alla commedia, oggi come sapete divise fra il Kupferstich Cabinet di Berlino e la Biblioteca Apostolica Vaticana di Città del Vaticano. Attorno a questo volume, questo autunno, ci sarà un convegno congiunto tra Firenze e Berlino una sorta di lettura di tutte le illustrazioni di Botticelli al testo di Dante. È un evento perché ci permette di capire anche che cosa significò la commedia nel Quattrocento, in quel torno di anni in cui Botticelli si accosta al lavoro di commento realizzato da Cristoforo Landino e pubblicato per volontà del Comune di Firenze nel 1481 come simbolo delle virtù civiche e moderne rappresentate dalla commedia e rappresentate da Dante. Botticelli coglie questa occasione anche per costruire un suo discorso speciale di elevazione dell'arte, di emancipazione della pittura e della figura sul testo di Dante, prendendo esempio proprio dalla commedia e dall'esperienza di Dante stesso e cioè come Dante aveva cercato di portare i valori dell'arte e della pittura, ma dell'arte divina e del dipingere divino all'interno della sua parola, analogamente Botticelli tenta di portare la forza espressiva del poema dantesco, della parola dantesco, all'interno dei suoi segni pittorici. Per conquistare che cosa? Per poter realizzare diciamo un progetto impossibile, far vedere l'invisibile nel visibile, i valori sacri dentro i segni dell'uomo e mostrare così la capacità, questa sì, davvero divina dell'artista, di potersi elevare, di poter andare verso un significare oltreumano, oltreumano. È un gigantesco congegno, quello messo in opera da Botticelli, che insiste particolarmente a illustrare quei canti centrali del Purgatorio, soprattutto i canti 10-12 del Purgatorio, che riguardano il visibile parlare, cioè la riflessione di Dante sui valori della parola e dell'arte, che permettono davvero questa possibilità, o perlomeno questa era l'intenzione artistica di Botticelli, quella di dare, di realizzare una cosa divina, dare vita all'inanimato, far vedere l'invisibile. creare, si potrebbe anche dire, si può anche dire, può sembrare un paradiso terrestre dell'arte, perché lo sapete l'Eden, il paradiso terrestre, rappresenta la possibilità di una perfezione umana nel vivere, nella realtà nostra, quotidiana. L'Eden rappresenta, come la chiamava San Tommaso, la beatitudo, uius vite, la felicità che si può raggiungere su questa terra, perché in essa stanno le forme superiori, che i grandi artisti, che i grandi interpreti riescono a avvicinare, ad accostare, eccetera. Poi il tutto verrà preso anche in altre opere di Botticelli, come la calunnia di Apelle, sapete, e via dicendo, ma con tutto il gioco di discussione sull'apparenza, sulla presenza del sacro, sugli inganni del vedere. Insomma, è un'occasione anche questa, che permette di fare il punto su alcune immagini e su quello che ha rappresentato Dante per l'umanesimo e per l'umanesimo fiorentino in particolare. Un ultimo dettaglio, e poi non vi rubo più tempo, un ultimo episodio a cui vorrei fare riferimento e che rappresenta un'altra iniziativa importante della nostra società dantesca, è la realizzazione di un facsimile, di una edizione illustrata della commedia. Il famoso codice Parigi-Imola, cosiddetto Parigi-Imola, perché diviso fra la Biblioteca Nationale de France e la Biblioteca Comunale di Imola, per ragioni che vi dirò rapidissimamente fra poco. È un codice di metà del Quattrocento, probabilmente degli anni quaranta del Quattrocento, che porta il commento di Guiniforte Barzizza, il figlio del più noto Gasparino Barzizza, un umanista che visse, che itinerante, fu in Catalogna presso Alfonso d'Aragona, poi lavorò soprattutto a Milano per Galeazzo Maria, fu il precettore di Galeazzo Maria Sforza e poi lavorò soprattutto per Filippo Maria Visconti, per Filippo Cristo. Questo codice non ha ovviamente soltanto il commento di Barzizza, ma una estesissima illustrazione, opera di un maestro noto solo con uno pseudonimo, il Magister Vite Imperatorum, che ha preso il nome da un codice di Svetonio da lui illustrato. È un artista del tardo gotico lombardo, veramente un maestro, veramente un grande artista, che realizza uno dei cicli più estesi di illustrazioni sulla commedia. Addirittura ci sono tre o quattro miniature per ogni singolo canto. È una cosa che accade forse soltanto nel Dante Estense, in queste dimensioni. E per darvi un'idea di che tipo di illustrazioni, questi sono due fogli del codice, veramente attraenti e affascinanti per le modalità di esecuzione, eccetera, eccetera. Ma l'operazione non è stata, non è importante soltanto perché si ripropone questo documento per gli studiosi, per gli appassionati e permetterà di mettere assieme le due parti smembrate del codice e quindi di studiarlo ex novo e di capire che cosa ha significato. Ma anche perché ha permesso di capire tutta la storia che sta dietro l'itineranza di questo codice che finì nelle mani di Luigi XII di Francia, poi rientrò in Italia, poi tornò di nuovo in Francia. Fu addirittura, a un certo punto è scomparso questo codice. Fu ritrovato nel 1835 da un erudito francese, Gaston de Flotte, in un castello della Dordogna, in mezzo ai rifiuti. Anzi, scrive il de Flotte, era stato per lungo tempo questo libro, Trastullo dei ragazzi e viene recuperato, il de Flotte lo fa vedere a un espatriato imolese, un espatriato imolese, Giuseppe Zaccheroni, un mazziniano che era espatriato in Francia per ragioni politiche, il quale si assume il compito di editare per la prima volta questo manoscritto, non senza trattenere per sé alcuni fogli di questo codice, strappando letteralmente alcuni fogli da questo insieme recuperato dall'oblio. E infatti noi vediamo che questi fogli furono poi donati dallo Zaccheroni alla biblioteca comunale di Ibola. E qui ancora figurano e appunto faranno parte della riunificazione di queste parti. Allora ci si è accorse che prima ancora di questa mutilazione, il codice aveva subito ben altre mutilazioni, molte miniature erano state ritagliate. Non si sa come, non si sa quando, e questo è quello che succedeva. Vedete, questo è un foglio del facsimile e questo è successo in molte molti fogli di questo codice che non sono stati risparmiati. Per cui di quelle che erano le 110 miniature originali, 110 miniature è una cifra stratosferica per un codice dedicato soltanto all'inferno, per l'illustrazione dedicata all'inferno, delle 110 originarie ne sono rimaste una settantina, una settantina, che sono state riprodotte in questo codice. Il codice è veramente, è veramente straordinario e per il commento e perché rappresenta un'illustrazione narrativa modernissima, modernissima, una lettura modernissima del testo di Dante e come tale appunto rappresenterà uno dei punti fermi attorno ai quali creeremo un'altra iniziativa di visualizzazione di Dante per il pubblico che vorrà, che vorrà ascoltare questo. Dunque su questi e su altri luoghi e su altre iniziative conta la dantesca per fornire un'immagine contemporaneamente culturalmente forte ma nuova, ma nuova ma rinnovabile attraverso i nostri occhi, attraverso le letture di tanti artisti del testo di Dante e quindi credo che l'occasione centenaria sia propizia anche per queste prospettive. Grazie della vostra pazienza e a presto.